E allora il fortino della Juve Stabia viene violato dal re Iemmello che oggi con due calci di rigori sentenzia la sconfitta casalinga della Juve Stabia a vantaggio appunto del Perugia. E legittima credo la vittoria con una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo dove comunque ha creato tante tali situazioni da rete che poi alla fine non puoi dire che il Perugia non se la sia meritata. Dispiace ecco che siano arrivati i gol su due calci di rigore. Onestamente il primo calcio di rigore sono quelle classiche situazioni fra attaccante e difensore dove ci si strattona a vicenda dove tutti e due si prendono la maglia e poi di solito vince chi cade giù per prima. Sicuramente c'è stato molto mestiere e l'arbitro ha concesso rigore. Non dico che non ci fosse il fallo però sai di falli così dentro l'area se ne vedono milioni durante la partita. Magari un po' più credibile è il secondo rigore dove Rosi viene proprio tirato giù e per cui non so se non mi ricordo se di fallo o se c'era proprio anche uno strattonamento però comunque mi è sembrato poi chiaramente sappiamo in Serie B non c'è il VAR per cui vale un po' tutto il contrario di tutto però così a prima impressione mi fido dell'occhio umano credo che il secondo fosse un netto calcio di rigore. Sul primo ho qualche dubbio però ripeto nella ripresa insomma tante e tale situazioni con Provedel che chiude lo specchio uno contro uno con gli Mello e fa un autentico miracolo, il palo nel finale insomma un colpo di tacco sempre degli Mello. Insomma ce ne sono state di occasione che sicuramente sinceramente hanno legittimato la vittoria del Perugia e nel primo tempo la Juventus abbia avuto l'occasione perché dopo il pareggio di Canotto e altre tre situazioni create sempre da Calò con tiri grosse e con calci d'angolo e comunque hanno impensato il portiere sul calcio d'angolo mi sembra abbia preso anche la traversa. C'è stata sicuramente un'altra opportunità sempre con Canotto lanciato a rete che è sempre uno dei migliori quando gioca perché riesce a spaccarti le partite in due, le difese avversarie in due e quindi si è presentato col suo sinistro ma l'ha tirata alta. Ecco lì probabilmente poteva cambiare la partita non è cambiata per imprecisione e poi nel secondo tempo non credo che ci sia stato nulla da dire insomma converrete con me tifosi della Juventus abbia che il Perugia oggi credo che l'abbia meritata soprattutto per come ha interpretato il secondo tempo.